da Quartus Sant'Elena Cogliani, Giacomo Cioschero Stocchino! All'Anglo Rosso, da Roma, Federico Saico! Bava! E questo ti sarà teuto, usa la tua rabbia con intelligenza, e ti prometto figlio mio che un giorno, il mondo intero conoscerà e temerà. Vorrei, vorrei non essere sempre così arrabbiato, non faresti nulla, però sarai virge. Non lo faccio per il solito, non lo faccio per la forma, non lo faccio per me nemmeno, siete figli di pittana, e un figlio della cata, quindi cazomenia perché non credo che nel tutto spezzeremo che e te nemmeno, non lo faccio per la forma, non lo faccio per i raga, non lo faccio per mia mamma, non mi allegro con quelle idee tutte le ci spingere, non mi allegro con il forte e non potete godere, con tutto queste regole... Il team Rocking Promotion presenta un'interpressione per la stilisciparia di disciplina Muay Thai. La prima impresa. Il team Rocking Promotion presenta un'interpressione per la stilisciparia di disciplina per la stilisciparia di disciplina. Il team Rocking Promotion presenta un'interpressione per la stilisciparia di disciplina. Il team Rocking Promotion presenta un'interpressione per la stilisciparia di disciplina 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 Siamo arrivati! E' la seconda ripresa. 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 E' la seconda. E' la seconda ripresa. E' la seconda ripresa. E' la seconda ripresa. E' la seconda ripresa.